se si muove ieri dei signori la mia nuova intro dai non lo ciao noi siamo su dark violet e ora quando si va ah qua ti vuole la lega goccio armando questo lo vuoi prendere lo spiro no posso non lo prendere trattata non si non si pensa nemmeno spiro neanche e io devo 4n1 ma anche lo catturo non lo so non lo catturo vabbè ci pensiamo più tardi ah giusto dobbiamo prendere il pacco nel pokemon market dove è andiamo vabbè che dice questo i'm training pokemon white my friend right now vabbè motivo originale poi si ti spai in inglese non lo capisco ah non posso passare hanno dato che è e che ci potevamo mettere in italiano no 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 una traduzione c'è c'è no ecco ah gli ho dato lava cookie biscotti fatti di lava si poteva fare in minecraft ovviamente vabbè vabbè si 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 le solite cose scritte in inglese perchè già non capisco la mia lingua ecco di assunto della storia poi si chiama daisy come nascondere in gs di super mario ah town map allora noi bug c'è bug vuol dire la mappa lo zaino scusate allora siamo a pallet town io sarebbe bianca villa viridian city c'è davanti paem pao peuter city questa la lega per esempio c'è la lega pokemon perchè sennò indico prato qua sala vuoto c'è c'è ruelan c'è 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 riluan rock tunnel questo è pokemon tower power plant e la e lavandonio safron city poi c'è seladon vermilion fucsia sennò hey sennò beau olar perchè alzano tutto tutto ne peggio vivian city e possiamo passare osserva che c'è il team rocket modificato l'uomo non mi segui un po' tutti i ragazzi sono riusciti vediamo vabbè è il trainer vabbè sì ora li batto eh team rocket grunt aspe ecco fatality livello 7 ember brucia ecco oh i bello hot good job allow me to hear your Pokemon e si calmo by the way you made a smart choice they are unbelievable weak and pathetic when inside team broker finds out of a voice on the who spoken to benefit them financially didn't tell you the details behind it basta vabbè sì pkmn trainer camond chi vuoi fare più la donna adan camond e se fosse lui questo non lo so coincidenze io non credo oh ecco 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 ric thanks ecco 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 co �지 e oh rocket what to do da catturare qualcuno big game a me lo catturo lui no ora posso usare il pokeball un bug abbiamo 10 pokeball mi ha catturato eh ora andiamo andando salviamo ma non si può salvare giusto se è vero il pc stante è backup memory io non so fare il backup della memoria c'è ora salviamo noi aspetta che metto un gioco in borsa salviamo save game qua ed è salvato 15 14 4 è salvato dobbiamo farci ora noi andiamo a curarlo perchè è distrutto perchè io ho fatto quasi una fatality sinceramente bello il mio microfono mamma io poi non è costato niente ecco perfetto perfetto ah che cos'è oddio ma è un po' bagato bella pewter 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 siamo a pewter cos'è allora noi siamo a pewter city pewter city pewter city dove è town map siamo a pewter city c'è poi c'è monte moon c'è rilan city e poi continuando per questa direzione si va all'abandonno poi ci hanno fatto non ci hanno fatto l'animazione per le scale cioè le scale i giochi hack room fatti diciamo diciamo gli indie anche il problema sono sempre scale sempre sempre ed ha c'è il centro pokemon non so che i miei due video siamo eh amigigai amigigai fresh water io mi penso che l'allenatore sarà qualche cosa molto potente ah questo è tipo faccio direttamente niente ho fatto brook che c'è ti privano tre pokemon non gli ho fatto niente come possibile no taglio questa parte quindi quando non lo ammazzo eh sono tornato eh no quanto è potente il super 9 house ma ammazzato fatality e fatality pure mi ha fatto mi sa che sono stato abbastanza distrutto abbastanza dico abbastanza salvo aspettate e mh ma mh ho fatto i culo strisce e cos'è ah il museo ho fatto i culo strisce fine allora penso che per questo vi saluto lo batteremo nel prossimo episodio quando l'avremo allenati tantissimo fino al desaurimento totale come minimo desaurimento totale e ci rivediamo al prossimo episodio smoky everyday